Si pensa prima ad altro, si pensa prima alla città, il centro di Bitonto, poi si pensa alle frazioni, alle strade e tutto il resto. Le luci che non ci sono e le frazioni di Mariotto e Palombaio collegate alla città con la SP89 poco illuminata e dove negli anni hanno perso in tanti la vita. Devono prendere provvedimenti su quale strada, luci non c'è nessuno, non si può stare così, sono sempre i ragazzi che poi alla fine ci rimettono. Sarebbe veramente utile il ripristino dell'impianto luce, quello è molto ma molto importante, non risolve i problemi ma aiuta moltissimo, specialmente all'incrocio della poligonale. Frazioni però abbandonate non solo nella illuminazione ma anche per altre problematiche e l'assenza di presidi di forze dell'ordine e di attenzione si fa sentire soprattutto nella popolazione anziana. E sai quante volte che mi hanno detto che dici che io me ne vado di testa? Qua non c'è niente, vedi un vigile, vedi un carabiniere, non c'è niente! È un morire qua a Palombaio, un morire!